Buon pomeriggio, bentrovati dalla TGR Sicilia, il quartiere giostra roccaforte dello spaccio a Messina, decapitati clan Rigo e Bonanno che si contendevano le piazze del traffico di droga. Nel maxi blitz della polizia sono scattati 39 arresti ma anche sequestri. È stato un agguato avvenuto nei pressi del mercato nel 2017 a dare inizio alle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia. Tutti i dettagli con Duilio Calarco. La scampia di Messina, così l'hanno etichettata ai pentiti, era nel rione di Giostra, teatro di una faida tra i clan degli Rigo e dei Bonanno per il controllo del territorio e del mercato della droga. Le indagini della direzione distrettuale antimafia e della squadra mobile peloritana hanno fatto luce su una serie di tentati omicidi tra il 2016 e il 2017 per contrasti nel traffico e nello spaccio degli stupefacenti. Sono clan che passavano quasi a scimmiottare un po' le dinamiche della camorra napoletana da alleanze a guerre anche, come dire, cruente. 39 le persone arrestate, di cui 13 ai domiciliari, più 13 obblighi di firma, rilevati oltre mille episodi di vendita di cocaina, eroina, marijuana e hashish che hanno svelato una vera e propria centrale dello spaccio nelle case popolari di via seminario estivo, un fortino operativo giorno e notte munito di impianti di videosorveglianza per dare l'allarme sull'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Ricorrendo anche a diritti contro la persona che fosse necessario per accaparrarsi il dominio su una piazza di spaccio grande perché insiste su uno dei territori più popolosi della città di Messina, quello di Giostra. Nell'operazione Marketplace, che ha impegnato 350 poliziotti, sono stati sequestrati appartamenti, cantine, garage, auto, moto e denaro per 73 mila euro. Mentre alcuni reati sono diminuiti come frequenza e intensità, il traffico di stupefacenti rimane uno degli affari principali che ha resistito anche alla pandemia. La distribuzione è continuata in maniera normale e lo stesso si deve dire per gli afflussi di stupefacente nella città di Messina.